Allora, benvenuti, vediamo quest'oggi se riusciamo a capire un po' come usare il multi-res Il modificatore multi-res è un modificatore che è abbastanza difficile da usarsi ma che però può dare diverso aiuto a chi lavora con Second Life Il problema principale che dovrebbe riuscire a risolvere è il calcolo dei load nel senso che con le tecniche che abbiamo visto spesso se si fa una scultura con tanti vertici poi diventa abbastanza complicato calcolare le versioni delle mesh con meno vertici che sono i load più lontani che usa Second Life o OpenSim per far vedere le mesh invece la teoria è che un strumento come il multi-res consente di selezionarlo andiamo in obiettivo, vedete, ecco questo qui è un oggetto su cui è calcolato multi-res Allora, il multi-res cosa vuol dire? Che abbiamo applicato un modificatore multi-res l'abbiamo fatto a tre livelli potremmo farlo anche a quattro per avere tutti i quattro load che ci interessano la cosa interessante è che possiamo vedere vedete i vari load intermedi quindi questo è come si vedrebbe da lontano preview 1 come si vedrebbe da medio termine è così, in maniera più dettagliata il fatto che i tre o quattro load coesistono sullo stesso oggetto ha ovviamente degli indubbi vantaggi ma il problema con il nuovo Blender è che quando si ha una struttura del genere lo si può soltanto sculptare e visto che il numero di vertici in realtà non è così elevato infatti possiamo ancora fare un subdivide qua quindi sculptare questo oggetto qua cosa vorrebbe dire? vorrebbe dire andare in modalità sculpt, si intende la modalità di Blender e poi si cerca praticamente di introdurre delle modifiche che non è proprio il massimo della vita perché abbiamo pochi vertici magari possiamo aumentare un pochino il raggio e la forza e vedete che in qualche modo si riesce insomma anche qua però non è proprio la cosa più utile del mondo nel senso che noi vorremmo poter modellare i vari load ma in maniera tale che rimangano consistenti fra di loro questo modo di modellare i vari load è importante anche per gli sculpted e anche con le mesh se si vuole seguire questo sistema si può fare una volta che tutti la struttura topologica del nostro oggetto è già fissato in modo tale che il numero di vertici e la texturizzazione sia compatibile per tutti i vari livelli con cui è fatto il problema però è che a parte lo sculpting che come avete visto in realtà ci serve ma non ci serve a meno che non voglio fare un livello con molti punti e poi scultare lì sopra il problema è che a parte lo sculpting mode se noi andiamo semplicemente in edit mode vedete che ci lascia editare soltanto il load più basso e questo è un po' brutto noi vorremmo poter editare ogni singolo load allora come si fa a ovviare questo? beh, facciamo un esempio quindi partiamo da zero quindi facciamo ctrl n partiamo da vuoto prendiamo il nostro cubo questo andiamo in object mode in edit mode lo suddividiamo un pochino di volte ok, così e supponiamo di voler partire con questo oggetto di applicarci un modificatore multi-res quindi andiamo nel nostro qua facciamo add modifier aggiungiamo multi-resolution e per aggiungere il quindi probabilmente dobbiamo essere ecco in object mode per farlo aggiungiamo delle varie suddivisioni quindi una, due, tre e quattro vedete che lui fa ogni suddivisione in modo tale che sia fatta sul modello del subdivide quindi il subsurf quindi è abbastanza ben fatto qui noi possiamo come vi ho detto prima lavorare in edit mode sul modello più a bassa risoluzione quindi praticamente ecco non così facciamo ctrl z facciamo o proportional e proviamo a editare un po' questo modello qua lo cambiamo un pochino ecco cerchiamo di fare qualcosina di un pochino originale eccolo qua allora quello che accade è che avendolo modificato il modello a bassa risoluzione anche il modello a alta risoluzione segue questa visione ma se noi vogliamo aggiungere dei particolari o andiamo in sculpted mode quindi andiamo qui sulla sculpt 4 andiamo in sculpt mode e poi proviamo magari con un raggio un po' più piccolino a sculptarli nel senso che proviamo vedete possiamo dipingerci sopra quindi possiamo fare delle cose scrivendo o facendo insomma dei disegni sul nostro con lo sculpt il che comunque è già una bella cosa questa cosa si protrae nel senso che se noi andiamo sculpt 4 andiamo sul sculpt 3 vedete che lui automaticamente calcola l'effetto sul load precedente sculpt 2 e così via un po' più lontano sculpt 1 probabilmente non si vedrà quasi niente però i calcoli di tutti questi load vedete che li fa automaticamente ora però se noi volessimo come dicevo prima editare solo la parte ad alta risoluzione senza lo sculpt quindi andare in edit non potremmo su un blender 249 si poteva con questo non si può ma c'è un trucco che ho scoperto esplorando con molta fatica tutta la documentazione tutti i forum i blog di blender appunto perché c'era della gente che si lamentava e diceva come si fa allora come si fa è semplicemente questo si prende l'oggetto su cui abbiamo il modificatore subsurf lo si duplica quindi avendolo selezionato e si fa shift D dunque selezionato ah no però dobbiamo essere in object mode facciamo un bel shift D e abbiamo una copia allora sulla copia che abbiamo copiato possiamo andare a fare i nostri aggiustamenti quindi come facciamo dobbiamo innanzitutto essendo un object mode applicare ecco applicando il modificatore vedete che io ho tutti i punti completi in questo caso sono 98.000 punti questo non è che vada benissimo per second life quindi prendete il load precedente possibilmente però su questa griglia che abbiamo costruito possiamo andarci a lavorare nel senso che possiamo andare a prendere dei punti come questo e fare dei adesso magari riduciamo il proportion parecchio ecco possiamo andare a farci praticamente degli aggiustamenti quindi per esempio vogliamo intensificare cioè quindi lavorare perché magari o non ci troviamo a lavorare con lo sculpted col pennello sculpted o comunque ci sono certi strumenti proprio di blender che non sono certamente quelli che vi faccio vedere così vedete che sto aggiustando la scultura perché magari appunto mi trovo meglio a farla così no? quindi una volta che ho sto ho aggiustato la scultura in un modo che mi piace voi dite come faccio a propagare questo punto questa cosa in modo tale che anche i load precedenti la ereditino ora innanzitutto la modifico un pochino sostanzialmente per vedere la differenza ok allora si fa così molto semplicemente selezioniamo il nostro oggetto questo qua e poi selezioniamo quello di prima originale quello che aveva il multires e a questo punto gli facciamo reshape allora il reshape lo faccio in questo modo praticamente ricopia vedete che prende l'oggetto che ho modificato e lo ricopia in questa struttura e lo ricopia a tutti i livelli infatti se noi adesso selezioniamo solo il nostro oggetto e andiamo a vedere le varie risoluzioni quindi sculpt ci sarà guardate allora questo qui vedete che l'ha un po' modificato lì però dovrebbe essere questo che lo fa ah no andiamo in sculpted mode questo ok allora in sculpted mode quindi vedete che abbiamo lo sculpt 1 vedete che è ereditato un po' delle modifiche sculpt 2 ne ha preso e così via sculpt 3 e sculpt 4 è effettivamente quello che gli abbiamo messo quindi questo è il la tecnica poi quando voi volete esportare i vari load quindi dovete esportare ogni singolo elemento di questo allora per salvare i vari load è semplicemente molto semplice basta scegliersi la preview che si desidera quindi preview 3 piuttosto che 2 1 quindi ad esempio questa è la preview 1 selezioniamo il nostro oggetto facciamo file export collada ci accertiamo che ci sia selection only e poi applichiamo i modificatori e la view in particolare in questo modo possiamo salvare la preview 0 1 2 e vedete che a seconda di quale preview stia usando aumenta la quantità di vertici che vengono caricati quindi questo è un sistema riassumendo un sistema ideale per se volete fare una modellazione con sculpting progressivi conservando la forma ricordatevi comunque che dovreste questo optimal display non fa niente di particolare mentre invece ricordatevi di fare smoothing per avere ecco questo qui il smoothing è preview 1 preview 2 preview 3 ok lo smoothing ricordiamo che migliora parecchio è sempre le performance la qualità visualizzata ok con questo credo che il multi-res forse vi potrà servire qualche cosa buonanotte